L'ultimo episodio Ti sei fermato e chiamato i soccorsi. La ragazza non era sola. Giusto? Il tuo nome è Samantha Andretti. Sam, tu sei stato scontato 15 anni fa. In tanti anni ho imparato a non trascurare nessuna pista. Cunigli. Forse è giunto il momento di farle conoscere Banni. Dobbiamo sapere cosa ricorda ora. E devo arrivarci prima di lui. Perché? All the shots Bring it back to what it's time Make a move Do what we do As the world... La storia non finisce così giusto. Because he is not outside, but inside your mind. For more videos, don't forget. She is a part of the video. She is a part of the video. She is a part of the video. I was able to dance. She is a part of the video. I am a saint. Grazie a tutti.